Nel fine settimana la regione sarà interessata da un intenso flusso di correnti sud-occidentali in quota. Queste correnti portano aria umida più verso le Alpi e meno verso la costa. Per quanto riguarda il dettaglio di sabato, avremo cielo sereno su pianura e costa, più nubi invece in montagna, specie dal pomeriggio, quando sarà possibile anche qualche breve pioggia locale. Temperature massime intorno ai 20-22 gradi in pianura, 18-20 sulla costa. Nel pomeriggio soffrirà vento sostenuto dal mare sulla costa e sulla bassa pianura. Per la giornata di domenica avremo cielo poco nuvoloso sulla costa, probabilmente variabile in pianura, più nuvoloso in montagna con delle piogge sparse già dal mattino che dal pomeriggio diventeranno rovesci più diffusi, anche temporaleschi. Verso sera possibile qualche rovescio e qualche temporale anche in pianura. Temperature massime intorno ai 20-21 gradi in pianura, 18-19 sulla costa dove ancora di pomeriggio avremo vento sostenuto dal mare. Per la giornata di lunedì, tempo variabile con rovesci e temporali sparsi più probabili in montagna. Dall'Osservatorio Metodo Regionale dell'ARPA, un saluto da Marcellino Salvador.